La progettazione di un sistema di irrigazione automatica richiede un sopralluogo per rilevare le dimensioni e la forma delle aree da irrigare, la pressione e la quantità d'acqua disponibile in relazione al giardino. Si possono usare irrigatori a scomparsa o tubazioni di gocciolamento. Il numero e la dimensione delle elettroalvole che cestiranno l'apertura e la chiusura devono essere calcolati in base alla portata e alla pressione dell'acqua. La rete di distribuzione richiede scavi per le tubazioni che portano l'acqua agli irrigatori. Con una specifica app si può programmare, attraverso il sistema Bluetooth, l'apertura e la chiusura di ogni elettrovalvola.